Con tanti da truffare, hai scelto proprio John Crammel. Il cancro si sta diffondendo. Temo che non ci sia altro che possiamo fare. C'è solo una persona che la potrebbe aiutare. Il nostro programma a duplice approccio, vicino a Città del Messico, ha dato risultati sorprendenti. Quella donna mi ha salvato la vita. È in ottime mani con noi. E dopo che succederà? Che continuerà la sua vita, John Crammel. Secondo questi esami, il tumore non è mai stato rimosso. Quanto mi resta? Mesi, al massimo. Ho ancora molto lavoro da terminare. John! Salve a tutti. Voglio fare un gioco con voi. Avete fatto finta di curarmi. Ma quello che ho in mente per voi è molto reale. L'unica cosa che non vi ho fornito è l'anestetico. Ma fidatevi. Vi conviene rimanere vigili. Con tanti da truffare hai scelto proprio John Crammel. Ti prego, non esitare. Metti un pezzo consistente del tuo tessuto cerebrale dentro quel vaso di enzimi. Questo ti salverà la vita. So sweet Silent day Questa non è una punizione. È un risveglio. Vivere o morire ha voi la scelta.